Nuovamente insieme amici di Auto Occasioni nel mondo targato l'Ancar Autoleone, da sempre la garanzia del miglior prezzo, ma attenzione perché questo è un mese speciale, un mese nel quale si parla di ibrido. Beh l'Ancar parla di ibrido veramente da già molto tempo, ma questo è il mese giusto, perché scegliere un'automobile ibrida? Perché si risparmia sin da subito con la garanzia del miglior prezzo, perché si dà possibilità e accesso all'eco bonus e in più le automobili ibride hanno veramente dei costi di gestione bassissimi, risparmiate moltissimo denaro nel loro utilizzo e in più non inquinate, in più zero blocchi del traffico. Beh a questo punto questa puntata la vogliamo veramente dedicare ai veicoli ibridi nuovi di casa Hyundai e passiamo subito la parola a Cristian Travaglio. Certo, oggi ibrido vuol dire essere amici dell'ambiente, vuol dire avere la possibilità di sfruttare tutti i vantaggi fiscali, vuol dire poter entrare nei centri delle città, vuol dire avere da oggi anche delle alternative. Parliamo di nuova Hyundai Kona, bellissima, completa di tutto, qui da noi la trovate in pronta consegna ad un prezzo veramente eccezionale, pensate 20.000 euro con il 18% di sconto. Altra grande novità, nuova Hyundai Ioniq, disponibile con tre alimentazioni, quindi ibrida, ibrida plug-in oppure full electric, anche in questo caso potete godere del massimo dei vantaggi fiscali, pensate è qui che vi aspetta in pronta consegna a partire da 22.400 euro. E poi non poteva mancare nuova Hyundai Tucson, anche in questo caso ibrida, pensate è disponibile 2-4 ruote motrici, cambio manuale oppure automatico, in questo caso il prezzo di partenza solo da noi è di 23.500 euro. E poi non dimenticate ovviamente tutto il resto della gamma Hyundai, disponibili con motorizzazioni benzina, diesel oppure con GPL ufficiale montato dalla casa. Parliamo di nuova Hyundai i10, pensate può essere vostra solo questo mese a partire da 7.900 euro. E poi nuova Hyundai i20, disponibile anche nella versione active, a partire da 9.800 euro. Siamo ora nello showroom completamente dedicato al marchio Honda, anche in questo caso siamo concessionari ufficiali di questo marchio prestigioso, e continuiamo a parlare di ibrido con nuova Honda CR-V ibrida, l'ibrido che prima non c'era. In questo caso pensate 4.500 euro di hybrid bonus, può essere vostro solo qui da noi a partire da 27.900 euro. Anche per quanto riguarda il marchio Honda la gamma è molto completa e parliamo ora di nuova Honda Jets, disponibile con motorizzazione benzina oppure GPL, pensate completa di tutto può essere vostra a partire da 11.500 euro. E poi Honda Civic, diversi allestimenti come anche la versione Type R che vedete qui in salone, può essere vostra, pensate a partire da 15.800 euro. E poi HR-V SUV compatto di casa Honda, disponibile con motorizzazione fino a 182 cavalli e lo trovate a partire da 17.300 euro, ovviamente in pronta consegna e pagabile con piccole rate mensili. Siamo ora nello showroom dedicato al marchio Peugeot, tutto il nostro showroom è stato rinnovato e a questo proposito vi invito a venirci a trovare per darvi la possibilità di sfruttare gli sconti che facciamo con il lancio della nuova struttura. Quindi parliamo di nuova Peugeot 108, pensate con uno sconto eccezionale può essere vostra in pronta consegna a partire da 8.200 euro. Parliamo anche di 208, ultime vetture a disposizione, i primi che arrivano fanno veramente l'affare. Pensate, nuova 208, 5 porte, completa di tutto, può essere vostra a partire da 8.500 euro. E poi nuova 2008, non poteva mancare, anche in questo caso sconti fortissimi per le vetture in pronta consegna, qui da noi la trovate a partire da 11.900 euro. Cresciamo nelle dimensioni esterne delle vetture, ma cresciamo anche con lo sconto, perché come sapete qui da noi le macchine costano di meno. E pensate che nuova 308, qui da noi la trovate in pronta consegna, 14.500 euro. E poi nuovo SUV 3008, uno dei SUV sicuramente più ambiti del mercato. Su alcune vetture in pronta consegna lo potrete acquistare a partire da 19.900 euro. Avete sentito bene? 19.900 euro. Parliamo ora di Peugeot Rifter, un veicolo multispazio adatto a tutte le esigenze. Disponibile fino a 7 posti, cambi manuali, automatici, benzina, turbodiesel, ogni esigenza può essere soddisfatta da questo veicolo. Pensate, può essere vostro a partire da 15.900 euro. Fine anno si avvicina, questo è il momento giusto per pensare a cambiare il vostro veicolo commerciale con uno nuovo di casa Peugeot. Beh, questa è la concessionaria ufficiale Peugeot veicoli commerciali, oltre 200 veicoli in pronta consegna, con uno sconto incondizionato che arriva fino al 53% e poi tantissimi vantaggi fiscali, quindi questo è il momento giusto per fare un salto qui in Lancar Auto Leone e scegliere il vostro nuovo veicolo commerciale. Le novità qui in Lancar Auto Leone non mancano, un'altra grande novità sempre in casa Peugeot, bellissima. Certo, 508 Station Vagon è una macchina veramente sportiva con tanta tecnologia a bordo, ma le novità non finiscono qui. Sì, perché so che vuoi estendere un invito a tutti gli amici che sono a casa. Certo, in tantissimi siete già venuti a chiederci informazioni, tanti di voi l'hanno già anche acquistata, ma segnatevi questa data, il 5 di novembre in tutte le nostre sedi potrete trovare in anteprima nuova Peugeot 208. E allora vi aspettiamo il 5 di novembre, ma in realtà vi aspettiamo tutti i giorni, concessionaria ufficiale Hyundai, Honda e Peugeot, Peugeot veicoli commerciali, come sempre la garanzia? Del miglior prezzo, qui da noi c'è dal 1963. Grazie Cristian Travaglio, grazie a voi tutti per l'attenzione, ci vediamo qui in Lancar Autoleone. Lancar Autoleone 2 vi aspetta tutte le domeniche e ovviamente tutti i giorni della settimana, nelle sedi di Alba, in corso Asti 24 barra C e in corso Bra numero 8, ad Asti, in corso Alessandria 399, all'uscita autostradale Asti Est, a Carmagnola, in via Poirino 101, di fronte all'uscita autostradale. E dalla sede di Torino è veramente tutto, sempre con Lancar Autoleone 2.